Siamo stati costantemente buoni, abbiamo avuto due cali incredibili sul cambio palla fino al secondo set e adesso bisogna fare qualcosa. Sono tutti i giocatori che ho scelto io, bisogna che facciamo qualcosa perché dopo sono le classiche stagioni che ci si inclinisce e ci si dice sempre le stesse cose. Io vedo che i ragazzi migliorano tecnicamente, fanno, però dopo ci basta due cambi palla che non facciamo e entriamo in tensione. Quindi vuol dire che c'è una situazione generale che non quadra e adesso penso che sia giusto vedere cosa fare. Questo vuol dire che si parla… Vuol dire tutto, vuol dire tutto, adesso siete i primi con cui parlo ed è giusto che prima si parli tutti insieme, quindi non sono belle le cose dette prima, però bisogna intervenire a fare qualcosa e questo qualcosa è una cosa che deve rimanere tra di noi prima, prima di esplicitarlo.